Sono Sara, vivo da Vittorio Veneto e la mia passione è il disegno. In questi anni sto lavorando per diventare un'illustratrice professionista, sempre di più. È da pochi anni che lo sto facendo seriamente, perché prima ero più un ambito di preproduzione, lavoravo nei cartoni animati, mentre negli ultimi quattro anni mi sono decisa a voler esprimere la mia arte con la sensibilità che secondo me si riscontra nelle illustrazioni, nel tratto e nella scelta dei colori e nei temi. Per esempio per questa mostra ho voluto parlare di un aspetto della donna che riscontro nella mia vita e in quelle cose che faccio. Il fatto della determinazione, il fatto dell'essere forte nonostante fisicamente le donne non partiamo molto avvantaggiate. Devo dire che in questo settore c'è spazio per esprimersi in quello che si è, sia non solo come sesso, ma anche come carattere, come interessi. Perché un'illustrazione bella è anche se parla di aspetti tristi, divertenti, se parla di temi femminili, prettamente femminili o maschili, veramente molto aperta. Rispetto ad altri ambiti secondo me non ci sono opportunità o differenze a seconda del sesso.